Buongiorno a tutti e benvenuti a EASY22. Siamo qui nello stand barco per presentarvi l'ultimo nato della famiglia Eventmaster, il PDS 4K SDI. Questo è un All-in-One estremamente flessibile che ha trovato larga applicazione non soltanto nel mercato del rental ma anche dell'installazione fissa. La macchina è dotata di 6 ingressi HDMI 2.0, 2 12 G SDI, opzionale una scheda audio Dante che aggiunge 2 ingressi DisplayPort e 64 canali in ingresso e 64 canali in uscita Dante, 4 program indipendenti su ognuno dei quali si possono creare 2 finestre live su un background statico, dove le due finestre live possiamo posizionarle e dimensionarle liberamente sul canvas di visualizzazione, in più un'uscita multi-viewer di preview che consente di avere all'operatore una visualizzazione di tutti gli ingressi fisici collegati alla macchina e dei preview e i program delle rispettive messe in onda. A livello di gestione la macchina può essere gestita attraverso un pannello frontale dove si possono impostare semplicemente i preset o si imposta l'utilizzo classico tradizionale oppure tramite interfaccia web. Questo è tutto, buona giornata e buon proseguimento.